E' così, le sue mani, come fa che doterà dei suoni niente più? Diventa non presia, le cosa è te, con armonie, mondo cresce e n'amai, se ne chiamo, come fa, soni e se ne mette, 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 mette. E' così, le sue mani, come fa, soni e se ne mette, 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 mette. E' così, le sue mani, come fa, soni e se ne mette, mette. E' così, le sue mani, come fa, soni e se ne mette, 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 mette. E' così, le sue mani, come fa, soni e se ne mette, 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 mette. E' così, le sue mani, come fa, soni e se ne mette. E' così, il mio obiettivo di Samali rende abbastabile e parte integrante della formazione artista musicale qui nella città di Colonia. Ehm... Non si presenta solo come un'opportunità di far conoscere questo genere d'età, che ho apprezzato in Italia e altro, ma si propone anche come occasione per giorni talenti e anche agli talenti del lavoro, tecnici e quant'altro, per lavorare e crescere in un momento in cui ci entrano delle crisi in tutto il mondo, e specialmente anche nel nostro paese, in particolar modo per quanto riguarda la cultura. Noi, perché giustamente dicendo che ci crediamo, che lo dimostriamo, ma perché riteniamo che il musical sia parte integrante di quel aspetto di teatralizzazione del suono che deve essere l'elemento fondante di un teatro musicale. Quindi il musical fa parte di quella teatralità musicale esparsa che è la chiave per capire la drammaturgia musicale del nostro tempo. C'è il musical, ci sono le varie venite dell'opera contemporanea, c'è la teatralità di un suono che può essere anche virtuale e che si può presentare secondo vari aspetti. E vi dirò di più, il rapporto con il Summer Music Festival è l'illustrazione concreta del fatto che il palcoscenico del Teatro Comunale di Bologna non è la Fondazione Teatro Comunale di Bologna, ma è uno dei suoi nene e dei possibili luoghi di rappresentazione, così come il Teatro di Aracano con cui noi collaboriamo da anni, così come sono gli altri palcoscenici reali e virtuali dove la nuova teatralità del suono contemporaneo si esprime e di questa contemporaneità fa parte organicamente a tutto diritto il musical. E' vero che Shona Faber va avanti a testa bassa, ma il musical qui dentro entra a testa alta. Questa è una cosa molto importante. Cioè andiamo anche a vedere la musica degli altri, perché facendo tutta la musica in questa città c'è tanto rock, c'è il musical, c'è la mirica, c'è la classica, c'è la musica contemporanea, c'è il jazz. Ogni tanto andiamo a sentire delle altre cose, cioè non rimaniamo perché è molto importante anche questo. E' un lavoro che noi dobbiamo sposarci di fare, cioè intrecciare il pubblico, far sentire che appunto la musica è bella perché è la musica. E i generi, diciamo così, li applichiamo noi perché semplifichiamo e per i tempici. Però, vabbè, parliamo di musica, di grande musica e in questo caso il lavoro della destra, il lavoro che fate voi e il musical è sicuramente grande musica, e nel fondo appunto le grandi capacità anche artistiche che abbiamo la fortuna di avere. perché davvero il lavoro che stiamo facendo sul teatro comunale è legato anche al fatto che noi siamo consapevoli di avere una grande orchestra, un grande coro, dei grandi tecnici. E quindi è un patrimonio che vogliamo difendere a tutti i costi e dare la città e avere uno scambio della città. Luce per noi, ora è la priorità, non puoi stare a tu io qui, da solo poi. Luce per noi, ora è la priorità, non puoi stare a tu io qui, da solo io qui, da solo io qui, da solo io qui. Luce per noi, ora è la priorità, non puoi stare a tu io qui, da solo io qui, da solo io qui, da solo io qui. Luce per noi, ora è la priorità, non puoi stare a tu io qui, da solo io qui, da solo io qui. da solo io qui, da solo io qui, da solo io qui, da solo io qui. Tutti in età, in età, ciò che l'ami perderai, e il prezzo sai, ma non c'è te la vai. Il prezzo sai, ma non c'è te la vai, e il prezzo sai, ma non c'è te la vai. Il prezzo sai, ma non c'è te la vai, e il prezzo sai, ma non c'è te la vai. Il prezzo sai, ma non c'è te la vai, e il prezzo sai, ma non c'è te la vai. Ma non c'è te la vai, e il prezzo sai, ma non c'è te la vai. Grazie! 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 Grazie!